L'Italia vive un momento veramente difficile della sua storia, questo è un fatto evidente a tutti e tutti credo ci interroghiamo sulle ragioni del disastro in atto e anche sulle responsabilità personali, collettive di questo disastro, è inutile immaginare che i colpevoli siano alcuni pochi nomi e basta, in fondo c'è una responsabilità collettiva e questo libro nasce dall'esigenza di scandagliare dentro me stesso queste responsabilità di tipo collettivo, gli italiani in che cosa sbagliano? Hanno sbagliato e continueranno probabilmente a sbagliare ancora speriamo non troppo a lungo e quindi la ricerca di un carattere comune in senso negativo, soprattutto ci sono anche degli aspetti in positivo nel libro, cioè elenco anche alcune virtù per così dire di questo popolo, ma soprattutto la ricerca verte sui lati oscuri come dice anche il titolo, il lato oscuro è complice degli italiani, gli italiani sono un po' complici rispetto al potere, questo è un dato permanente della nostra storia che ricorre puntualmente e basta volgere lo sguardo indietro anche per poco per accorgersi di questa costante terribile che ci accompagna. Dicevo delle responsabilità collettive, ecco la ricerca che ho portato avanti cerca di individuare soprattutto un elemento che è quello della diciamo nostra educazione, della nostra educazione civile che deriva da un'educazione religiosa ben precisa, io sostengo una tesi per dirla in poche semplici parole, siamo un po' tutti quanti figli della controriforma, ecco la controriforma ci è entrata per così dire nel sangue e l'abbiamo metabolizzata e ce la portiamo dietro in molte manifestazioni della vita collettiva. Questo mi ha portato ad approfondire sempre più il senso di questa controriforma, in che modo questa controriforma è riuscita a creare un carattere italiano. Io parto in particolare da un'idea abbastanza ottimistica sull'Italia, nel senso che io mi rifaccio a un filosofo napoletano Bertrando Spaventa che ha lavorato a metà dell'Ottocento, il quale sosteneva che il cittadino responsabile è stato creato proprio in Italia, è stato creato dall'umanesimo, dal rinascimento, delle dignitate ominis di Pico della Mirandola, fa testo, come fanno testo gli scritti di Giordano Bruno, questa specie di eroe, eroe del no, eroe dell'eresia che accetta di morire tra le fiamme piuttosto che rinnegare se stesso. Ecco, questo personaggio così positivo, così forte, viene piegato, viene messo in ginocchio dalla controriforma, è obbligato a dire sì e noi diventiamo il popolo dei cosiddetti yes-men, non sappiamo fare altro che dire di sì. E questo è il tratto comune che ci caratterizza e che ci fa essere plavudenti al despota di turno. Ogni tanto arriva una sorta di uomo forte e noi a questo uomo forte non riusciamo a dire di no, non ce la facciamo. Questo in linea generale è naturalmente un argomento che va affrontato in modo articolato, in modo di dialettico e infatti il libro, come dire, non sfugge dai chiaroscuri e cerca di offrire un panorama quanto più variegato possibile. Ma il tratto fondamentale che ci contraddistingue è questa scarsa capacità di dire no. Il libro poi, va chiarito, è un libro di sfogo personale, soprattutto fa parte, come dire, il libro di un signore che ha vissuto a lungo e, come dire, ne ha viste di tutti i colori, come si usa dire, e a un certo punto decide di dare libero sfogo a se stesso senza pretese di particolare scientificità. È un libro che ha anche un abbandono, per così dire, alle mie idiosincrasie, cioè a un'analisi delle mie idiosincrasie e a una critica anche veloce e improvvisata del nostro paese e dei costumi che ci caratterizzano.